...e' un'opera di risanamento ambientale, è un'opera, sono delle opere che ne bastano in questo territorio, basta pensare a tutte le cave e sappiamo cosa vuol dire, da per cui non rimarcava in questa città. Bene, ora andiamo avanti e concordiamo la manifestazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.